Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi parleremo di un momento di grande importanza nella vita di Paola Caruso, nota come la bonus di Avanti Un Altro. La celebre showgirl è tornata sui social media con un annuncio shock riguardante il suo amato figlio Michele, che è stato recentemente sottoposto a un intervento delicato alle gambe. Nel nostro video scopriremo i dettagli di questa vicenda e le speranze per il futuro del piccolo Michele. Paola Caruso ha condiviso sui social un tenero scatto in cui appare con il figlio Michele, adagiato con cautela su un passeggino. Il bambino, solo pochi giorni fa, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di risolvere problemi alle gambe e riconquistare l'autonomia nel camminare. Paola ha affrontato apertamente questa situazione, spiegando che l'origine del problema risale a un viaggio in Egitto in cui il figlio è stato sottoposto a cure non adeguate. Nonostante la riservatezza sulle condizioni di salute precise del piccolo Michele, sia Paola Caruso che i suoi fan mantengono la speranza che il bambino possa tornare a camminare senza l'ausilio di protesi. La solidarietà e l'affetto dei suoi sostenitori hanno accompagnato Paola in questo percorso difficile, mostrando un supporto senza riserve per la sua famiglia. Molti fan hanno manifestato curiosità su perché il figlio di Paola si trovi ancora sul passeggino. Anche se Paola non ha fornito una risposta diretta, è evidente che il bambino è ancora in fase di recupero e non è in grado di camminare autonomamente. Tuttavia, madre e figlio sono apparsi sorridenti nelle foto condivise, dimostrando il loro spirito combattivo e l'amore incondizionato che li unisce. Vi ringraziamo per aver seguito il nostro video. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su altre storie interessanti del mondo dello spettacolo. Non dimenticate di lasciare un like al video, condividerlo con i vostri amici e iscrivervi al nostro canale per non perdere altri momenti emozionanti come questo. Vi aspettiamo al prossimo video!